eccolo l'amico mio buongiorno buongiorno sti cazzo no ma quale questo di qui fermati mannaggia il cro fammi senti un po che c'è di qui dentro smettela che c'è di qui dentro e tu ti dico che c'è eh sapessi una frasca tu che c'è di qui mannaggia ma senti fammelo che ha fatto ma via va porca maia siamo carini insieme eh come si sente a 93 anni a pasquetta eh come si sente come un coglione oh le chiavi le chiavi le chiavi de che dello slittino e l'arte di coglione di fare lo scemo ma dove l'hai messa dove l'hai messa ma che cazzo ne so dammi le chiavi dello slittino vattene ah ma mi serve mannaggia il col di strada vattene una storia di pasquetta no dai me la racconti si pasqualino raccontami la storia di pasquetta ma che cazzo ma che cazzo ne so che hai fatto le storie nel 1979 a pasquetta che hai fatto eh le pimpe ho fatto e come come hai fatto oh ma vattene nel 1979 che hai fatto a pasquetta eh fermati capi che noi ogni giorno devo fare tipo un film hai capito tutte quante ste cose vi fa vedere tutti sti video dalla gente e la gente ride hai capito eh certo e piangono eh no quindi è tipo un film capito tu devi concentrare fa la faccia concentrata da film se no la gente dopo guarda levati con sti ciucce ah anche quando vanno a cacace guardano hai capito fa bene e così scappano i peti meglio saluta anche in inglese che ci seguono anche da fuori chi ci seguono anche da fuori Italia quindi dobbiamo imparare anche un po' l'inglese tu fa good morning vai si good morning good morning everyone vai oh levati di coglione ma che me voglio mannaggia fermo vattene mannaggia che rispondo no vattene ma diglielo in inglese oh no no